Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale, bentornati a un nuovo episodio di Jurassic World Evolution Andiamo avanti con la nostra campagna, dovevamo andare sull'altra isola Abbiamo messo da parte un po' di soldi, fatto anche qualche ricerca Intanto sto prendendo tab, pensando di sto gioco a Crusader Kings Mentre invece non è così Navigazione isola, andiamo di qua, vai Vai sull'isola Ok, tanto quando cambio gioco Mi si confondono i tasti nella testa Vediamo le visibilità di Torino Sauri usando le gallerie panoramiche Piattaforme panoramiche, girosfere e monorotaglie ben posizionate Va bene, ok Sarà fatto, sarà fatto Saltiamo, fammi giocare per favore, grazie Allora, andiamo a vendere qualche fossile Vendi, 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 vendi Ok, abbiamo fatto un po' di soldini Questo lo possiamo vendere Questi sono 10.000 quindi insomma li possiamo anche investire Quanto guadagnavamo noi su quest'isola? 30.000, ok Abbiamo bisogno di un pochino in più di Ah ok, stavamo facendo uscire l'oro Vediamo un po' come sono questi dinosauri Che mi pare che questi non li avevamo mai visti Ok, maggiore identità ossa l'abbiamo completata Speriamo che fa un bel ruggito Ok, ultimamente siamo stati un po' sfigati con i ruggiti Un po' soffocato Va bene, va bene Ti piace, ci piace Allora, libera Un erbivoro dalla Cina Tipico erbivoro cinese proprio Si sente solo Quanti dovete essere? Dimmi due per favore Scusate Qua Popolazione Italia 4 Ok, quindi ne dobbiamo fare altri due Laboratorio Hammond Incubatinosauro Questo qua Vai Sei uscito? Posso utilizzare lo slot? Grazie Un tesoro Vai Ok, quindi Già adesso va un po' meglio Che ti serve? Solo in sociale Va bene Beh, con questi dovremmo alzare un pochino le entrate 41 Ma io di niente Allora, qua abbiamo sempre il nostro tirannosauro Dobbiamo liberare un Edmontosauro Edmontosauro Ce l'abbiamo? Un slot occupato Ah, mannaggia, non ce l'ho Vediamo di qua se ce l'ho Anche se non lo sgancio qui Umbrachio Gallimimus Questo qua Con Longevità pari a 151 E io come da dirlo sulla longevità? Quanto ci abbiamo? 70 Quindi, no Devo ricercare Questi valori Da quella forza Arrivo a 88 Quindi devo probabilmente migliorare Devo cercare questi scavi Allora No, database Fossili No Mappa spedizioni Andiamo a cercare E' certo di dove sei Vediamo un po' forse in Europa No, manco per niente In Africa, no? Cioè in Africa Sud America Scusate In Africa Non so perché mi è uscito l'Africa Qua ci abbiamo 0% Ma ci sta? Cioè è un dinosauro Esistente Oppure No? Ce l'ho qua Ce l'ho qui Eccolo Allora uno è questo Ce n'abbiamo un altro? Mi sa di no Cioè qua c'è tutto Mayasauro Eh Vediamo qua sopra ma Eh no È solo qui Ehm Ce l'abbiamo solo in quella zona Eh Qua ci stanno tutti Cioè proprio tutti Tutti Mayasauro Dragorex Eh ragazzi Ce l'abbiamo solo qua Ok Dobbiamo ricercare anche Qualche upgrade Allora Eh perché Se no qua Fossili No Mappa spedizioni No Ricerca Ehm Fossili No Ricerca genetica Eh dobbiamo Sinsepar questi Ehm Ehm Mantenere Riduci tempi Di reazione Eh costano un sacco Di soldi No ci conviene Tornare di là Ci conviene tornare di là Perché tutti questi soldi Mi Mi costano un po' troppo Quindi Facciamo una cosa Ehm Aspettiamo che Escano loro Così almeno Questi qua sono contenti E non c'ho problemi Quando ritorno E Mantiene il numero Del visitatore Ma Penso 300 visitatori Porcavolo Ehm Facciamo anche Allora una cosa Va Eh perché La nostra isola È abbastanza triste Dai biglietti Volevamo 76000 Vabbè L'attrazione ovviamente È zero Ehm Esc Valutazione Isola 5 dinosauri O varietà scarsa Eh lo so Ci abbiamo pochi dinosauri Allora facciamo così Mettiamo Loro li facciamo uscire Poi ne metta Incubare Altri due Di una varietà diversa Magari qualcosina Di un po' più Anche piccola L'importante è che Guadagniamo varietà E liberiamo anche lui E vediamo un pochino Chi possiamo Andare Ok questo lo vendiamo Subito qua Eh mannaggia Eh lo so Immaginavo Che comunque Ci potevano essere Questi problemi Eh qua potremo Incubare Tu mi costi Davvero poco A te come Stai messo Ah non c'ho Informazioni Una maia saura Vediamo un po' L'azione Ideale 4 Gruppo sociale 4 Quindi anche tu In 4 Dovete essere Tu puoi stare Da solo Va bene Te l'abbiamo messo Anche l'osauro Eh probabilmente È la sociale di turno Puoi mettere un bregiosauro Voi siete in due Gruppo sociale Due 13 Mettiamo le due Di questi Allarme tempesta L'allarme tempesta Lo gestiamo dopo Eh Bene L'allarme tempesta Eh Attività Lo possiamo mettere qui Ok Possiamo fare così Quale recensione Esattamente Quale è la recensione Che si è rotta Qua Ah Questa è la tempesta Come è impossibile Trovare un percorso Scherzi Ok Ma me volano pure i dinosauri Secondo voi Sapete che non lo so Sei preoccupato Beh Insomma Io Lo Lo potrei Quasi comprendere Insomma Non Non mi sento Di darti Torto Considerando Il tornado Che ti sta arrivando Addosso Non credo Non credo Di poter dire Non devi aver paura Ok 56k Va bene Vabbè C'è solo il laboratorio Da riparare Aia Ma scusate Questo No Esattamente Stazione Medio Riduci tani Deve impessere Di vici In un ampio raggio Del 40% E che cavolo L'ho fatto a fare Vai a riparare Questi Allora Io un'altra macchinina Me la metto Ma dai Tanto 50.000 Su Ok Dovremmo aver sistemato Tutto Ci siamo Tanto l'importante È che non esce Il tirannosauro Poi Può fare Quello che vuole Beh Non sai come uscire Da qua Vero Non ti ho messo Una porta Eccola Hai visto Ah che bene Allungiamo un'attività Ripara questo Ci dovremmo essere Ok Il comfort Com'è Minaccia dinosauri No No Sei uscito Uscito No Questo è uscito Centro Un'attività Una ricerca Fossi Allora Ehm È uscito Non dovevi Non dovevi uscire Questo non doveva uscire Non dovevi uscire Da qua tu Non eri previsto Non eri previsto Ora Gioca con la macchinina Gioca con la macchinina Gioco con questi pochi visitatori Che ci stanno Ok Elicottero Aggiungi attività Addormenta questo Immediatamente Vabbè Mi sembri tranquillo Per ora Mi sembri molto Oddio Questo lo vedo male Scappa Corri Corri Via Dove vai Qua ce n'è uno Dentro Non so se forse Deve conviene Rimare dentro Al cancello Sai È pure il blackout Pure il blackout C'è tutto Tutto che è successo Comunque Questa partita C'è Ho loggato adesso C'è su tutto Tutto quello che poteva succedere È successo In arrivo Ah ok L'abbiamo addormentato Meno male va Non so Squadra Portalo qua Ok Perfetto Ora Abbiamo sistemato Tutta sta robaccia Direi di Tornare Nella nostra isola Quell'altra E andiamo a fare Un po' di ricerche Vai sull'isola Vai Facciamo qualche ricerchina Così Ci Ci Sistemiamo Le varie Situazioni Con i Cosi Come si dice Con E Modificatori Genetici Magari Riusciamo a fare Un dinosauro Con qualche Punto in più Di longevità Come ci richiede La missione Allora Tentiero Non collegato Va benissimo Va benissimo Ricerca Ricerca Genetica 1 2 3 Facciamoli tutti Proviamo 4 4 4 4 4 Dobbiamo rilasciare Un diplodocus Allora Innanzitutto Ricerchiamo Tutta sta roba Questi Li teniamo Li vendiamo Di là Devo Continuare A scavare Qua A meno che Scusate Non c'ho Una ricerca Eh no Vedete Non ce l'ho Qua non ce l'ho Una ricerca Ma è impossibile Che non ce ne sta Un altro Di scavo È solo qua Non c'è un search Però No Non c'è La devo fare a mano Eh ma l'avevo Già visti Ma Eh l'unica è questa Non ci stanno Tante alternative Diplodocus Con 80% Allora Ah questo dormiva Poverino Quindi Ehm Sto ancora a dormire Allora Eh dove stai Dove stai Diplo Ti sei svegliato? No Scusami Se non ti sei svegliato Ok Dovrebbe stare Quaggiù No No Quasi no Allora sarà qui Vai Diplodocus Eh Lo incubiamo Questo dorme? Ma sembra di no Ok Allora Un Diplodocus Ce l'abbiamo no? Un Diplodocus Ce l'abbiamo Da qualche parte Ah ok E' lui con l'80% Quindi Torniamo Alla ricerca Genetica Blackout Blackout Quindi vai A sistemare Questo E Che dobbiamo fare? Dobbiamo fare altri scavi Quindi I fossili Vai Questo Ok Questo l'abbiamo fatto All'80% Quindi va bene Ehm Dobbiamo andare Di nuovo a fare un'altra spedizione E allora facciamo così Guardate Uno la mandiamo sempre qua E l'altro la mandiamo da questo Diplo qualcosa Qua Qui Quindi uno è qua E uno è qua La divisione sviluppo scientifico Ha ottenuto un'altra vittoria Grazie a te Petizione in attesa Ehm Arriva Ok Ci dovremmo essere Ci dovremmo essere Dobbiamo Mantenere Mangiatoie da rifornire Quali Esattamente Stiamo andando a rifornire la mangiatoia Questa è qua Ricevuta richiesta di rifornimento mangiatoia Ok Va bene Allora Dobbiamo aumentare i nostri visitatori Li aumentiamo con Un Meraviglioso Hotel Lo possiamo mettere Richiede collegamento Lo possiamo mettere qua Certo Non ci stanno gram di cose Ma insomma Farai comunque La tua scena Ti mettiamo proprio qua davanti Guarda eh Ecco Ti incastro Proprio così Ok Continuiamo a fare le nostre ricerche Che ci hanno la priorità Quindi prima le ricerche Ehm Ancora due minuti Vai Quattro minuti Ehm Questa è tutta roba da vendere Va bene Tutta questa roba poi Andiamo dall'altra isola E la vendiamo Quindi ci prenderemo solo il caricamento Attività Ehm Che ci possiamo mettere Per i visitatori Ah La 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 stazione Questa qui Potremmo metterla qua In questo modo magari Andiamo a dare una mano Centri qua Centri Ok Centri Quindi Possiamo fare Questo Questo Ah la curva è troppo stretta Ah mannaggia Ehm Cancella Modalità demolizione Ok Oh no 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 Fermi tutti Da qua Facciamoli fare questo Ma come fuori dall'area No Tutto è difficile Minaccia dinosauri Ma come Ok Quale minaccia c'è? Ti sei arrabbiato? Ehm Fa una finaccia Boom Ehm Finita Fine della macchina Beh Ehm Allora Aspettate che c'è Tutti i cancelli lì Sono sonora aperti Come lo chiudo? Ehm Fermi un attimo Allora Apriamo questo Aprii i rifugi Come chiudo tutti i cancelli? Ehm Come lo chiudo? Io lo cancello? Porca miseria Porca miseria Ecco Porca miseria No eh Che vuoi? No Ho fallito la missione Un vero peccato Eh lo so Non ti puoi Non ti puoi Arrabbiare Eh Cioè Guarda che macello Devono aver tutti i cancelli Dai Fai silenzio Eh Noi problemi li affronto io Eh Che devo fare? Vanno aver tutti i cancelli Non ci posso fare niente Guarda che casino qua Cioè Ma tu guardate Non lo sapevo Che potevano fare sta cosa Precisione 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 Porca miseria Precisione 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 Ehm Dammené un'altra No pilota Elicottero Mannaggia Oh ma Ma io volevo Ma perché? Volevo fare una partita Guardate che casino Che c'è Ok No Questo è No Questo no Questo non deve sta qua dentro Fermi tutti Quello non deve sta là dentro Dinosauro morto D'affanculo te Non è morto il dinosauro Chiamò la maiasaura No Me ne stanno ammazzando tutti No 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 Non è morto un'altra Ne è morto un'altra No Ne è morto un'altra Mi sono morti due maiasaure Ma tu guarda Allora Iniziamo a rimetterli tutti a posto Allora Tu che sei? Raptor Qua dentro Tu? Raptor Qua Poi Quello Ce lo siamo dimenticati Via Via Non mi ricordo Lo shortcut Di questo Questi si stanno menando No Dai Non mi puoi ammazzare questo Per favore C'è Dato un mozzico Gli ha dato Uno Un mozzico Dai una botta pure te Su Fatti valere Dai Bravo Boom Bocca Valla a curare Corri Oddio Oddio Stanno a morire tutti i dinosauri Questo che è? Veloci raptor qua Qui che c'ho poi Non c'ho altri raptor mi pare Vero? Sì c'ho altri raptor Porca miseria Raptor Raptor Ok Il tiranosauro dorme Meno male Allora Questo Tornatene qua Ok Ci siamo Chi è l'altro Tinosauro pericoloso Eh lo so Ma hanno Dove sta il dinosauro pericoloso? Dove è finito? Ah Ce n'abbiamo un altro qua in mezzo Quindi Prendiamo questo Minaccia dinosauri Me ne sono accorto Ah perché c'è da riavviare anche queste Boh Non si sa Vediamo un po' se qua abbiamo finito Di somministrare questi sedativi Ok Perfetto Perfetto Abbiamo risolto anche questo problema Che altro dobbiamo trasportare? Questo Vai qua Mi manca un raptor? No No qua Qua Perfetto Questo che cos'è? Un raptor? Beh qua Tutti sono usciti Cioè non ce n'era rimasto nessuno a casa? Ok Dobbiamo anche Rifornire il cibo Rifornisci Rifornisci Ok Uno E due sono Stradina Ah Ho capito C'è una scelta un po' infelice Bello Belle curve Allora aspettate che devo riprendere un attimino il controllo di questo Aggiungi un'attività Questo Ok Beh diciamo che l'abbiamo quasi contenuta Mi manca soltanto Da trasportare questi qua Vabbè E' io che volevo alzare i visitatori Perché ho fatto un sacco di cose Allora Torniamo nei fossili Questi sono tutti da vendere Ok Quindi torniamo di qua Eh no Spedizioni Ci abbiamo quindi Questa che ne facciamo un'altra E poi ci abbiamo Questa Poi sulle ricerche invece Progetti di ricerca disponibili Uno, due, tre E tre Vabbè Adesso stiamo andando anche In negativo Quindi devo vedere qual è lo shortcut per questo Perché Allora qua mi dice che dovrebbe essere R No? Giusto? No Non me lo dà Non mi ricordo Dove vedere lo shortcut Ma Se ci passi il mouse Me lo dici Vero? No E vabbè Lo leggerò dopo Se magari lo sapete voi in chat Fatemelo sapere DLP E Qua dentro Ok Allora adesso sta Ma penso a breve possiamo anche riaprire Piano piano dovremo poter riaprire tutto Eh me ne manca uno però C'è questo e E quello è sedato Quindi andiamo di qua Ok Abbiamo sedati tutti quanti Questo lo mettiamo qua E me ne manca uno? Eh boh Me ne mancherà uno? Mappa Eh Ah e quell'altro pure è sedato ma sta dentro al bosco Ah ti sei nascosto Ti sei nascosto Torna qua dentro Ok possiamo riaprire tutti i rifugi Apri tutti i rifugi Come? Ah Ehm Scusa un attimo Non ti posso sentire al momento Ah ok Perfetto Abbiamo Abbiamo sistemato tutto Quindi siamo rientrati Quante morte mi hanno fatto Denunce per infortuni Eh vabbè Ci sta Ci sta Ci sta Non so quanti sono morti Questo è un brachio E questo è un brachio Va bene questa roba poi la vendiamo Abbiamo fatto altre ricerche Perfetto Eh Uno Due E tre Allora adesso voglio vedere se riesco Tante volte A Modificare Questo dinosauro che mi dicevano di modificare Quindi torniamo su Dove stai? Dove stai? Raptor Da lì Immozionò Brachio Dove stai? Maia Eccolo Lui Modificiamo Dovrei riuscire Adesso Ah Qua non c'ho niente Quindi Quindi questo mi da longevità Che è lo squalo Poi qua Guadagniamo 102 99 94 Ah io c'ho i cani che abbaiano Ovviamente E questo Devo arrivare al 90% Eh arriviamo al 90% Allora In questo modo dovremo arrivare Ad avere I bonus Richiesti Non ci sono altri raptor Cioè nel senso Stai tutti bene no? Stai tutti a posto Però ho perso una mammasaura Quindi Mi pare due mayasaure L'ho persa Allora una sicuramente la facciamo Dove sta? Mammasaura Dove stai? Dove stai? Non ti trovo Mammasaura vai Ok E Eh sì Infatti una mammasaura è triste Mannaggia Sì Quanti dovete essere voi? 4 sicuramente Vero? Informazioni 4 Quindi si serve Un'altra mammasaura vai La facciamo subito Eccoci qua Poi Abbiamo fatto altri fossili Estraiamo 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 E E E E E Lo rimandiamo ancora qui Perché All'80% Dobbiamo arrivare a 5 4.900 Comunque Piano piano Li rifaremo Eh lo so Purtroppo c'è stato questo problema tecnico Che Era abbastanza difficile Da gestire E E Penso che poi possiamo tornare Sull'altra isola Sapete Perché In fin dei conti Qua mi dà 2 stelle Perché Per tutte le multe che mi hanno fatto Varietà adeguata 24 dinosauri Vabbè Giustamente Forse Tutte le ulti Sì Tutte le ulti Tutte le Gli ultimi Avvenimenti Ecco che volevo dire Non sono stati il massimo Va bene ragazzi Io terminerei qui l'episodio Sostanzialmente Non abbiamo fatto un cazzo Ma va bene Ci hanno massacrato I dinosauri E i sabotaggi E noi ci vediamo Alla prossima puntata Ciao a tutti